Siracusa, operazione antidroga, arrestata una coppia trovata in possesso di droga e armi. Continua il contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti da parte degli uffici operativi della questura Aretusea. Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso del controllo del territorio, agente delle volanti hanno preceduto, nei pressi di Corso Gelone, al controllo di un'autovettura con a bordo una coppia di coneggi, un uomo di 48 anni e una donna di 42 anni, entrambi i siracusani e il nipotino di 5 anni. I due sin da subito malcelavano un certo nervosismo che insospettive poliziotti che conducevano la coppia in questura e con l'ausilio dei colleghi della squadra mobile esperivano approfonditi accertamente, sottoponendoli a un'attenta perquisizione. L'intuito degli investigatori veniva premiato perché all'interno della borsa della donna venivano trovati due panetti di hashish per un peso complessivo di 150 grammi. Successivamente gli inquirenti affettuavano un'ulteriore perquisizione presso l'abitazione della coppia che consentiva di rinvenire a sequestrare 19 bustine di hashish, 3 bilancine elettronici, 4 coltelle di varie misure, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e una pistola Bruni modello 92 calibro 8 a salve con un caricatore e 10 cartucci ancora inesplose. La coppia veniva dichiarata in arresto per detenzione ai fini di dispaccio di sostanza stupefacente e su disposizione dell'autorità giudiziaria competente posta e domiciliari. Inoltre, in tale scenario operativo, gli agenti effettuavano anche una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del convivente della figlia degli arrestati che consentiva altresì il rinvenimento e il sequestro di 2 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della droga. L'uomo, un siracusano di 24 anni, è stato denunciato per possesso di droga.